Oggi è un video un pochettino diverso dai miei video soliti, infatti ho un ospite che è Fabio D'Andrea che è la mente, l'esecutore del progetto Quittles & Bean, chiamato anche, che sarebbe Queen Play Beatles. Qual è l'idea? È quella di prendere una canzone dei Beatles e suonarla come se i musicisti fossero i Queen, quindi con il loro stile e con i loro suoni. Un'idea, secondo me, geniale, molto bella, mi è piaciuta molto e abbiamo qua con noi l'ideatore che è Fabio e chiedo quindi quando e come è nata questa idea e come l'hai realizzata. Ciao Carlo, innanzitutto. Allora, l'idea è nata praticamente un anno fa, ero in collegamento con Mino che è il mio amico che tra l'altro ha poi realizzato le cover che sono state utilizzate per i video che ho caricato su YouTube e lui oltre a occuparsi di grafica e di fotomontaggi è un musicofilo, uno delle persone con la cultura musicale più basta che io conosca. Mentre stavamo chiacchierando di altro, di calcio, verosimilmente, perché siamo tutti e due tifosi, lui mi ha suggerito l'ascolto di un disco che poi si trova anche su YouTube che si chiama Beatles Meet Queen, quindi la stessa idea, diciamo, però al contrario. Io l'ho ascoltata e l'ho trovata carina, però ho pensato, pensavo che fossi in grado di farla al contrario, alla rovescia. E così dopo, in pratica, io ho detto sì, ok, carina, aspetta, ti faccio sentire qualcosa. Dopo tipo mezz'ora io ho mandato un pezzettino dell'introduzione di Michelle che per qualche ragione mi ricordava, o quantomeno avevo associato al sound un po' dei primi dischi, quello di tipo di Death on Two Legs oppure di Killer Queen per l'andamento terzinato. E io l'ho mandato così, semplicemente per farlo ridere, perché poi c'è molto humor dietro questa idea. E mi sono accorto che in realtà funzionava sorprendentemente. Per cui ho iniziato questo che è diventato un po' il mio hobby, il mio passatempo. E da allora ne ho realizzati nove, sto realizzando il decimo brano. È un po' un esercizio di stile, è molto un esercizio di umorismo, è un esercizio, è una pratica che è utile per il mio lavoro di songwriter, di produttore, di musica leggera. E poi ovviamente è anche un tributo alle mie due band preferite, che sono i Beatles, come si può vedere anche da quella splendida illustrazione che contiene tutte le chitarre utilizzate dai Beatles e i Queen. Grande, quindi una bella passione appunto sui Queen e sui Beatles, perché poi prima mi hai citato anche un brano dei Queen, che non è dei più famosi, quindi bisogna essere già scafati all'interno del repertorio, sia dei Beatles che dei Queen, immagino, vero? Eh sì, diciamo, i Queen in particolare li ho navigati in maniera profonda, in lungo e largo, per tutta la mia adolescenza. Adesso sto diventando vecchietto, come si vede dai capelli bianchi, e ancora li ascolto, nonostante poi facendo il musicista abbia ascoltato tutta la musica del mondo, però visto che i lavori, soprattutto quelli dei primi anni, erano lavori molto profondi, con diversi livelli di lettura, ad ogni età ho trovato un nuovo livello di lettura per continuare ad amare i Queen. Stesso discorso vale per i Beatles, insomma. Forse ancora di più hanno un repertorio talmente stratificato dal punto di vista delle possibili chiavi di lettura che non si smette mai di ascoltarli. E sembrano, i Beatles più di chiunque altro, sembrano nuovi. La loro musica, loro in otto anni hanno fatto tutto quello che c'era da fare. Nella musica leggera, e dopo 50 anni stiamo ancora rifacendo fondamentalmente quello che loro hanno fatto in pochi anni, negli anni 60. Esatto, quindi è una sperimentazione... La loro intendi, assolutamente, loro dal punto di vista e compositivo e delle tecniche di registrazione e di produzione, e ripeto, ovviamente avevano delle paraterie davanti, ma le hanno percorse tutte, quella era la cosa fantastica. Per cui in nuce c'è qualsiasi idea che poi è venuta ai produttori di musica leggera e di rock nei 50 anni successivi, era già tutto stato fatto lì. Da loro, dai tecnici del suono con cui hanno lavorato, gli arrangiatori, i produttori, c'era tutto. Gli stessi Queen ripetutamente hanno detto che si siano, si sono ispirati, che hanno idealmente proseguito il loro percorso, sia dal punto di vista del songwriting, sia dal punto di vista dell'utilizzo delle tecnologie. Hanno preso il testimone dall'otto piste che utilizzava i Beatles, l'hanno portato sui 24 e 16 canali che loro utilizzavano, utilizzando quelle tecniche e espandendoli. Esatto. Quindi veniamo a quello che hai fatto te. In pratica tu hai fuso questi due mondi in un gioco di citazioni. Spiegaci com'è, com'è, com'è te venuta. Il gioco di citazioni? No, no, è giustissimo. Dietro ci sta molto il senso of humor, che se vuoi è quello degli Elio Lestorietese, che poi è un esercizio proprio tipico della pop art, decontestualizzare, prendere un elemento, un frammento melodico, un suono, un timbro, prenderlo dal proprio contesto e spostarlo in un altro contesto per fargli cambiare significato. In questa maniera poi ci sono una serie di richiami, di rimandi tra i due mondi e in alcuni casi l'effetto è straniante. C'è gente che mi ha detto che si è spaccata la testa perché quando fuso insieme Another One Bites The Dust e Come Together il giro di basso che ovviamente era, uno era l'altro invece era mettendoli insieme è venuto e dopo un po' la gente, l'orecchio non sa più cosa seguire, sta sentendo un pezzo o sta sentendo un altro. Quindi c'è molto divertimento e molto senso humor dietro questo. Però ripeto, c'è anche molto l'esercizio di stile, nel senso che quello che provo a fare non è solo miscelare, eccitare, divertirmi a scovare le somiglianze, a rubare da un pezzo all'altro in modo da confondere le acque. è anche il tentativo di riprodurre le sonorità. Quindi, siccome mi occupo di tutto, dalle voci alla registrazione, alla programmazione delle batterie, le parti di pianoforte, tutto quello che serve, cercare non solo di riprendere le note che vengono suonate, ma anche i timbri che venivano utilizzati e il lavoro di produzione, di imitarlo il più possibile, perché questo non solo rende più divertente il risultato, ma è anche un esercizio per me. Esatto. E qui volevo anche chiederti, io quando ho ascoltato i tuoi lavori ho detto, qua non è una persona normale, c'entra anche il tuo lavoro, cioè tu non è che lo fai così solo di hobby, quindi... No, no, mi occupo di produzione musicale a livello professionale in maniera molto originale, perché da 12 anni ho lanciato io e la... Allora mia compagna, adesso mia moglie, abbiamo lanciato un sito internet che si chiama Canzoni su Misura, tramite il quale io produco canzoni che diventano idee regalo. Questo è il core business della mia attività. In 12 anni ho realizzato centinaia di canzoni, migliaia di testi e ovviamente da questo core business poi ci sono una serie di propaggini per cui mi occupo di musica per la pubblicità, inni sportivi, qualsiasi cosa che riguardi la produzione musicale. Quindi in questi anni ho aumentato la mia esperienza che è passata dal suonare degli strumenti al occuparmi della produzione a 360 gradi. quindi non sono più tanto interessato a come si suona il sol minore, sesta o come si fa il bending o lo slap, visto che suona anche il basso, anche se non bene come te, però la mia attenzione è più focalizzata su come si producono i suoni, come si crea un effetto sonoro con una visione un po' più ampia. A questo proposito cosa hai utilizzato per registrare e per arrivare al suono? Soprattutto penso Brian May che come suono di chitarra è molto molto particolare, ma anche John Dickon comunque. Assolutamente. Per quanto riguarda il contesto, la piattaforma che utilizzo è Logic e tutto quello che utilizzo per effettuare le registrazioni e i suoni è tutto quanto nativo in Logic. Non utilizzo plug-in esterni, qualche plug-in di Waves per il mastering, per qualche compressione, ma per il resto gli ambienti e poi soprattutto le simulazioni di chitarra, di basso, i campioni per la batteria, sono tutti quanti quelli nativi di Logic che poi sono quelli che chiunque abbia un Mac si trova a casa con GarageBand, insomma. Quindi è una cosa che può realizzare in realtà chiunque. Quello è il contesto in cui mi trovo. Fondamentalmente uno dei punti che voglio affermare con questa idea è che la strumentazione è fondamentale, ma che l'orecchio viene sempre prima della strumentazione, che uno dovrebbe sempre imparare a sfruttare al 100% la strumentazione che ha prima di incuriosirsi ad espandere la propria attrezzatura. Io sono per Ear for Gear, insomma, prima l'orecchio, poi gli strumenti. Non dovrei dirlo a te che sei contornato da splendidi bassi e contrabassi, quindi... Però so che in realtà, insomma, è... Ma questo è nello stesso modo, comunque, anch'io. Questo lo so. Per questo, per quanto riguarda... Poi per venire ai suoni di Brian May e di John Deacon in particolare. Per quanto riguarda Brian May, ero fortunato perché quando mi è venuta questa idea avevo da poco modificato questa chitarra. Questa chitarra è una chitarra economica che si chiama... Non so se si vede qua sulla headstock, sulla paletta. Ecco qua. Jim Reed era un liutaio di Campobasso che all'inizio degli anni 2000 aveva cominciato ad assemblare delle chitarre. Importava pezzi, credo, dal Medio Oriente o qualcosa del genere e poi li assemblava in maniera artigianale. Per cui le chitarre venivano vendute come chitarre artigianali, anche se avevano un prezzo bassissimo. Però erano di fattura molto buona, insomma, dal punto di vista della liuteria. Componenti economici. E io l'ho usato perché all'epoca suonavo tantissimo dal vivo e mi serviva uno strumento semplice da utilizzare che se avesse preso botte, cosa che poi è successo, se avesse preso... Ecco qua. Non so se si vede che è tutta rovinata perché un manager maldestro, aprendo il portellone di un furgone, me l'ha fatta cadere a terra e quindi io non... Insomma, ci ho fatto subito un pianto su. Praticamente avevo bisogno di uno strumento di questo tipo, l'ho utilizzato in quel periodo, dopo poco invece sono passato a uno strumento importante, di liuteria, mi sono fatto costruire il mio strumento, proprio mio, e questo è finito in un armadio per degli anni. Dopo un po', invece, mi sono reso conto che potevo essere creativo con questo strumento e non solo ho montato dei pick-up fender un po' migliori, ma soprattutto ho fatto delle modifiche in modo da avere degli altri timbri oltre ai classici suoni stratocaster. In pratica quindi ho fatto montare un selettore che si chiama Super Switch. In questa posizione, non è qua, vedi? Non so se si vede, c'è un interruttore. Quando è disattivato, le 5 posizioni sono le classiche 5 posizioni di qualsiasi stratocaster. Se si preme questo interruttore, succede la magia. Ci sono altre 5 posizioni e quello che succede è che ho i pick-up in serie invece che in parallelo. Dimmi quanto posso entrare nel dettaglio tecnico perché penso anche parecchio, giusto? Mi interessa, sì, sì. Ok. Quindi, in pratica abbiamo queste... Io con Raffaele Lombardi di 4Rock Liuteria, che è il liutaio, oltre a essere uno dei miei migliori amici, è anche il liutaio che mi segue qui a Sarzana, nella mia zona, nella provincia di La Spezia. Abbiamo deciso di avere in questa posizione qui questi due pick-up in serie. in questa posizione questi due pick-up, questi qua, in parallelo. Proprio la posizione centrale di una telecaster. In questa posizione qua e questa, in queste due, questi tre pick-up insieme, in serie, oppure due più uno in parallelo. E l'ultimo, questi due pick-up in serie. In pratica ho la possibilità di avere non tutti i suoni di Brian May, ma i principali suoni di Brian May, quello che lui utilizza più spesso. Lui non usa, da quello che, insomma, dalla mia conoscenza, non usa mai i pick-up singoli, e usa sempre almeno due accoppiati, a volte tre, in serie, per avere l'effetto unbucking dai single coil, per avere un suono più grosso. Ed è quello che succede con questa chitarra qua. Non mi bastava, perché mancava una cosa, per avere i timbri proprio un po' alla Brian May, e quindi ho fatto montare anche un pick-up push-pull, non so se si vede qua, che fa una ulteriore magia. Inverte la fase del pick-up centrale. Non volevo avere tutti i 10.000 selettori, 6 selettori, che ha una red special, per cui semplicemente ho fatto in modo che, tirando su questa qui, il pick-up centrale inverta la fase, e quindi io posso avere delle combinazioni out of phase, fuori fase, perché senza il fuori fase non può mai uscire con questa tendenza a far squillare gli armonici superiori. Proprio perché l'out of phase fa sì che tutte le armoniche uguali vengano cancellate, rimangano solo le armoniche differenti dovute alla differente posizione del pick-up. E quindi c'è un classico taglio sulle basse, vengono enfatizzate le frequenze alte, e succede questa cosa che solo la chitarra di Brian May può fare. Costo della modifica? Non me lo ricordo a fine che se dico un prezzo sbagliato Raffaele si arrabbia. Comunque nell'ordine delle decine di euro, insomma, più o meno. Non andiamo oltre i 100 euro, una cosa del genere. E l'ho fatto per avere un'arma in più, perché mi servono colori diversi per il mio lavoro. Era solo questa l'intenzione. Quando poi mi sono messo in mente di fare le cose, insomma, di emulare il suono di Brian May, la chitarra mi è tornata molto utile, ovviamente. Ottimo. E sul basso, invece, come ti sei mosso? Il basso che tu senti nella maggior parte dei pezzi è il mio vecchio Music Man, che ho venduto da un po' di tempo. Avevo un Music Man 5 corde. Ovviamente su pezzi come Another One Bites The Dust era perfetto. Negli altri casi torniamo al concetto di Year Before Gear. Io non sono nato come bassista, anche se amo il basso, negli ultimi anni mi sto suonando più il basso che la chitarra, soprattutto dal vivo. Ma non ho mai avuto un bass hero, non so se si dice, se si usa questa espressione. Non ho avuto mai un eroe del basso. Ho sempre ascoltato tantissimi bassisti, mi piacciono soprattutto tutti i bassisti cantanti, quindi Sting, Paul McCartney. Più che appassionarmi al timbro, ho sempre prestato attenzione al tiro, al groove, al modo in cui si occupa lo spazio, alla parte ritmica del playing dei bassisti. E uno di quelli che io ho scoperto che esisteva uno strumento che era una chitarra un po' più grossa, che faceva un suono più basso, con i pezzi di John Deacon, con A Candle of Magic, con And I One Bites The Dust, guardando guardando da ragazzino Live At Wembley di C. Uh, ma questo è interessante. Per cui quando poi ho cominciato a suonare il basso, istintivamente credo di non credo di assomigliare a molti bassisti, semplicemente ripeto, perché non avevo un eroe o una strada da seguire, però quel tipo di andamento credo che sia in qualche maniera quello che mi ha influenzato di più. E quindi anche utilizzando il Music Man, poi utilizzando i simulatori da amplificatore in maniera opportuna, ho cercato di somigliare a quel suono lì. Poi ultimamente invece ho cambiato strumento, ho venduto il Music Man e ho preso un economicissimo cort, spero che non sia una bestemmia, che però con il pick-up a due pick-up soapbar, con quello diciamo centrale, ha un suono che è sufficientemente simile a un precision, è un po' più chiuso di un precision, per cui per esempio nella cover di Day in the Life che era un po' ispirata alla sonorità di Movie Man Rhapsody ho suonato con quel pick-up lì, sono anche arriccato il dito tra una nota e l'altra come fa John Deacon giusto per scaramanzia e il risultato è abbastanza credibile. C'è anche un'altra cosa che ho fatto per il basso e te lo mostro, è una cosa di cui sono molto orgoglioso, scusami, su due pezzi della serie che sono Yesterday ispirato a 39 e When I'm 64 nello stile di Good Company ho utilizzato il fretless per avere un suono un po' più contrabassistico tra virgolette e ho utilizzato questo fretless che è il mio primo basso e la storia di questo basso è un po' simile alla storia di quella chitarra. Era un normalissimo basso economico da cinese della Echo credo. Adesso io ho cancellato il logo ma era un Echo ed è quello su cui ho imparato a suonare. Quando ho comprato uno strumento anche qui più importante l'ho messo da parte e poi a un certo punto ho deciso di diventare creativo ancora portato da sempre da Raffaele di Farrock Liuteria lui l'ha reso fretless e così ho scoperto di avere tra le mani il mio strumento preferito che è questo strumento qua di tutti gli strumenti che ho non c'è nessuno con cui mi senta a proprio agio come questo strumento qua e credo di averlo utilizzato addirittura senza simulatori di amplificatori in alcuni pezzi quindi semplicemente il suono opportunamente compresso con qualcosina qua e lì insomma e poi il resto è soprattutto intenzione e tocco non viene tanto dallo strumento perché ovviamente non è un precisione né questo né quell'altro né gli altri che ho avuto però ho cercato di sopperire con l'intenzione giusta per ricordare quella sonorità lì certo tra l'altro poi secondo me una cosa che lega molto John Deacon a Paul McCartney è proprio la liricità delle loro parti di basso comunque sia uno che l'altro sono molto lirici più anche sì c'è da dire c'è da dire che va dato merito a John Deacon di avere seguito quella strada lui si sente l'ispirazione Beatlesiana anche in John Deacon pensa a You're My Best Friend la prima volta che l'ho sentita a 15 anni ho detto ah caspita questo sembra un pezzo di Beatles quindi l'ispirazione è evidente mentre per Paul McCartney essendo lui cantante era una necessità trovare il giusto incastro tra fare in modo che le linee di basso fossero complementari alle linee vocali quindi era una cosa che veniva istintiva perché lui era l'autore il cantante il compositore il bassista tutto in una volta quindi credo che a lui sia sempre venuto abbastanza naturale nel caso di John Deacon c'era una consapevolezza John Deacon sapeva fare di tutto era un elettronico costruiva gli amplificatori però di cantare non se ne parla quindi sapeva scrivere anche meravigliosamente come sappiamo però non era cantante per cui c'era più studio secondo me va dato merito per questo dietro al fatto che le linee di basso siano comunque così complementari e perfette rispetto alle linee vocali perché come dici tu appunto riesce a essere lirico a essere a creare degli hook che tu ricordi magari sulle note alte dei piccoli intermezzi melodici su una base di groove ovviamente potentissima ma sempre nel posto giusto senza mai essere fuori luogo o fuori posto credo che fosse proprio una dotee una dote naturale sua insomma certo bene dai Fabio grazie mille per la chiacchierata è stato secondo me molto istruttivo e particolarmente piacevole come ultima cosa ti chiedo visto che ci sarà di gente che guarda il video spero dove può trovarti dove può ascoltare questi questi pezzi allora c'è un c'è un canale youtube si può cercare quittles and bean su youtube oppure cercare canzoni su misura di Fabio D'Andrea che è il nome della mia attività poi per chi vuole ascoltare questi poi ovviamente ci sono collegati altri canali youtube dove io metto sia le canzoni del mio del mio sito sia le mie canzoni mie cioè canzoni che produco diciamo sempre per diletto però in cui scrivo canzoni originali qualcuno mi ha rimproverato nei posti nei forum o nelle pagine in cui ho condiviso su facebook le canzoni di quittles and bean dicendo ma tutto questo impegno perché non lo metti a servizio di cose originali no faccio anche cose originali che con i queen e beatles non hanno niente a che vedere che sono completamente diverse e quindi chi vuole può anche andare ad ascoltare quelle se no mi si può sempre contattare su facebook io insomma volentieri non ho pregiudizi quindi se qualcuno mi dovreste voler contattare per qualsiasi ragione mi fa piacere